Il caro voli torna a essere un tema caldo per l'avvicinamento delle festività pasquali. Ci siamo fatti carico del caro voli ponendo davanti all'antitrust, dichiara il presidente della regione Renato Schifani, le nostre denunzie e inserendo un terzo vettore per collegare Sicilia e Italia. Ora stiamo realizzando sconti fino al 50% per i movimenti da e verso il nord. Per ora riguardano solo le tratte da Palermo e Catania a Roma e Milano, ma siamo pronti a estenderli ad altre città. La nostra politica è volta a tutelare il territorio contro il caro voli, aggiunge Schifani. Continueremo a farci sentire, ma opereremo sempre in sinergia con le regole vigenti. Sulla risalita dei prezzi a Pasqua è evidente che ci sia una speculazione. Fino a qualche mese fa solo Ita e Ryanair coinvolgevano le tratte in Sicilia. Auro Italia ha consentito all'utenza siciliana di viaggiare meglio e a Ryanair di abbassare i prezzi. Più concorrenza c'è e più alta è la qualità del prodotto. Il decreto Meloni-Urso, spiega ancora il Presidente, ha cercato di aumentare il rigore dando più poteri all'antitrust. Assistere alla speculazione dei vettori aerei che applicano algoritmi a livelli inguardabili genere indignazione. La Sardegna non vive questi problemi perché essendo considerata isola a tutti gli effetti, riceve contributi europei per l'abbattimento dei prezzi. Purtroppo la Sicilia, a causa della sua contiguità al resto del paese, non viene considerata isola e non riceve tali contributi. Se si arrivasse a riconoscerla come tale sarebbe un importante passo avanti. Faremo di tutto per intervenire con i nostri fondi, conclude il Governatore, per attrarre turismo affinché gli sconti sui voli siano al massimo possibile.